ciao ragazzi io sono riccardo bentornati nel mio canale youtube nel mio piccolo laboratorio oggi vi parlerò di questo misuratore laser della gbd a marchio che ormai conoscete perché vi ho fatto diverse recensioni di questi prodotti e avete visto che funzionano tutti davvero molto bene questo è un misuratore laser diverso da quelli che vi ho fatto vedere fino ad ora quelli erano dei misuratori laser con il display andavano puntati su una superficie insomma avevano un utilizzo diverso che però spesso alla luce del sole o in determinate circostanze non è proprio facilissimo da utilizzare esistono anche con una sorta di fotocamera integrata però ragazzi questo di qua è un misuratore laser che arriva fino a mille metri di distanza e ci permette di guardare attraverso l'oculare puntare su una superficie con la massima precisione e avere la misurazione riportata sia sul display esterno all'interno come una sorta di reticolo in un cannocchiale per esempio di una carabina quindi appare in sovraimpressione la distanza e in più ha un altoparlante che ci dice la misura quindi lo sentiremo lo potremo leggere da qua e che con noi lo potrà leggere da questa parte funziona anche come misuratore di velocità è un vero e proprio tachimetro infatti guardate somiglia a quello della polizia stradale quando misura la velocità dei veicoli ma adesso guardiamolo da vicino perché vi sto dicendo tutto nell'introduzione invece vorrei farvi conoscere almeno le funzioni principali guardandolo direttamente sul bancone vi ricordo che vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione e poterlo pagare un po meno del suo solito prezzo e il prezzo varia anche in base al range di distanza che riesce a misurare partono da 600 metri mi pare che arrivano a 1.500 o 2.000 metri però con i codici di sconto se riesco a tenerli sicuramente riuscirete a pagarli di meno del loro solito prezzo adesso guardiamolo per bene da vicino e valutiamo assieme iniziamo e allora il prodotto arriva all'interno di questa scatola ed è protetta all'interno di questa custodia particolare allora intanto a questa fascia elastica che ci permette di chiuderlo molto rapidamente quando dobbiamo utilizzarlo senza costringerci a dover aprire e chiudere continuamente la germiera quindi ci permette di chiuderlo in questo modo trasportarlo da un punto un altro per esempio in un cantiere riaprire la custodia estrarre il misuratore laser e poi richiuderlo all'occorrenza poi ovviamente per un trasporto vero e proprio sarà possibile richiudere la germiera e mantenerlo protetto all'interno troviamo i manuali di istruzioni il cavo usb per poterlo ricaricare un moschettone ed una pezzetta tipo quella per gli occhiali per poter pulire la lente per cosa si utilizza un misuratore laser di questo tipo che arriva fino a mille metri mille metri effettivamente in un utilizzo hobbistico forse non sono un po troppi io personalmente potrei scegliere anche quello che misura fino a 600 metri perché un misuratore laser di questo tipo per esempio può essere utilizzato per poter prendere delle misure approssimative perché quando si parla di misure grandi sicuramente non andremo a guardare i centimetri figuriamoci i millimetri ma vediamo in quali ambiti uno strumento del genere può essere utilizzato e sfruttato farò solamente alcuni rapidi esempi senza soffermarmi troppo ad esempio nei cantieri per misurazioni che non siano molto precisa nei cantieri a volte è necessario prendere misure approssimative e in quel caso uno strumento del genere soprattutto per grandi distanze torna molto utile ma si utilizza in ambito sportivo ad esempio questo è molto indicato per lo sport è una funzione specifica per esempio per il golf io l'ho utilizzato durante delle gare con delle armi sia per le carabine quindi a grandi distanze 50 metri e oltre ma anche per il tiro dinamico per misurare la distanza dei bersagli soprattutto quando ci si deve sbrigare nelle misurazioni ma va bene anche a caccia va bene per esempio durante l'utilizzo dei droni in quel caso per esempio posso misurare la distanza di un edificio o qualunque altra cosa voglia riprendere vedere a che distanza si trova ad impostare sul mio drone la distanza massima per esempio da me ma con un po di fantasia in base alle esigenze effettivamente può essere impiegato in mille ambiti tra l'altro alla misurazione della velocità che nel nostro caso effettivamente da hobbista forse serve a poco però l'ho provato ho verificato con un amico che guidava la sua automobile io ho chiesto di andare ad una determinata velocità e il misuratore mi ha riportato effettivamente alla velocità del veicolo quindi devo dire che funziona bene fatte queste premesse adesso guardiamo come funziona allora si accende da questo tastino si accenderà il display che ci dice che è pronto e poi possiamo variare il tipo di funzionamento premendo la m quindi mod come vedete ogni volta che io premo il tastino varierà la funzione e cambierà un'icona qua sulla parte alta questo per esempio ci indica la velocità questa era una funzione specifica per il golf che però è molto complessa non l'ho approfondita tanto penso che non giocherò mai al golf quindi non la sfrutterò però una funzione specifica che per chi è appassionato può tornare molto utile questa è la rilevazione per esempio dell'area questa del volume e questa la distanza come vedete ci sono davvero tantissime funzioni non le guarderemo tutte io stesso non le ho approfondite tutte ma posso garantirvi che quelle che ho provato funzionano davvero molto bene allora da questa parte avremo questo oculare non so se si riesce a vedere così si vede per adesso un po sfocato ovviamente ma si vede che all'interno una sorta di reticolo e nella parte alta nella parte bassa ci sono poi riportati alcuni riferimenti ma farò come vedere comunque altre inquadrature che ci permetteranno di rilevare la misura sia nella parte interna dell'oculare che ovviamente sul display avremo la possibilità di sentire anche la voce da questo altoparlante più in basso c'è anche all'ingresso usb non si tratta di un usb di tipo c ma micro usb che ci permette di ricaricarlo ho fatto tantissime prove ancora la batteria è quasi completamente carica sulla parte bassa abbiamo questa parte gommata perché potremmo poggiarlo per esempio su una carrozzeria di un'automobile comunque su una superficie delicata oltre a mantenerlo fermo e non farlo scivolare evita di graffiare le superfici ma qua in questo foro come avete visto si può collegare un treppiedi e ci permette di fare delle misurazioni di precisione perché quando si tratta di misure relativamente vicine fino a 50 100 metri riusciamo utilizzarlo tranquillamente a mano libera più ci allontaniamo ovviamente più sarà difficile poter puntare con precisione bersagli soprattutto di dimensioni ridotte allora come vedete abbiamo questi simboli qua e questa freccetta qua indietro è possibile premere più volte questo tastino come vedete touch quindi ci permette di variare funzione in questo modo e tramite questo tastino di qua invece possiamo tornare indietro in base alle impostazioni che stiamo dando è possibile anche bloccare sbloccare il display e il touch infatti qua c'è un lucchetto in questo caso di colore blu ed è aperto se li premo contemporaneamente diventa nero premendolo di nuovo ritorna rosso ed è chiuso eccetera abbiamo la possibilità mantenendo premuto uno o l'altro tasto di attivare e disattivare l'audio in questo caso come vedete ho riattivato l'audio allora ragazzi non è semplice quello che sto facendo cambiamo modellità andiamo su misurazione della distanza cercherò di inquadrare verso fuori allora 5 metri e 28 non so se mi vedete se entro nell'inquadratura proviamo a cambiare distanza 6 metri e 57 provo a fare un'altra inquadratura ok allora 6 metri e 7 come vedete mi dà la misurazione sia per quanto riguarda il display per quanto riguarda l'audio però solo in inglese e ovviamente appare anche all'interno 6 metri e 74 quindi una misurazione presa in modo rapido semplicemente inquadrando secondo me molto molto comodo ovviamente all'oculare può essere regolato per quanto riguarda la messa a fuoco e da una messa a fuoco molto molto nitida e precisa se devo trovare dei punti negativi l'unico punto negativo che ho trovato è stata la parte bassa perché o mettono in dotazione un piccolo supporto che ci permette di mantenerle in piedi come vedete altrimenti cade o se no sarebbe stato comodo se avessero fatto una base piatta perché se siamo da soli vogliamo posizionare in un punto il nostro misuratore laser non utilizzando i treppiedi in questo modo non potremmo ci cadrebbe e sarebbe impossibile da utilizzare 10 metri esatti che fortuna allora ragazzi cosa dire di questo misuratore laser come avete visto funziona bene ci riporta una misura sia per quanto riguarda la distanza la misura per quanto riguarda gli angoli e tante altre funzioni riguardanti per esempio il golf eccetera ma anche la misurazione della velocità uno strumento che in base alle nostre esigenze può tornare utile per diversi scopi ovviamente chi lo acquista per misurare le distanze non se ne fa nulla della funzione del tachimetro lo stesso della funzione del golf e viceversa chi invece ha necessità di utilizzarlo per sport effettivamente utilizzare per esempio l'angolazione eccetera può tornare utile perché può servire a calcolare diverse cose ma nell'ambito normale o bistico solitamente un oggetto del genere va utilizzato per capire a quale distanza ci si trova in modo approssimativo in modo veloce da una superficie da un oggetto da un bersaglio nel caso del tiro dinamico eccetera quindi secondo me è un prodotto che funziona bene che mi hanno mandato per farvi conoscere che sono contento di avere recensito e che vi ricordo se vi piace che vi lascerò un link giù nel primo commento nella descrizione per poterlo comprare spero e mi auguro con un codice di sconto detto questo non mi resta che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale mettere mi piace al video se vi è piaciuto l'avete ritenuto utile cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto